Passo direttamente alla parola a Vittorio, al quale abbiamo chiesto una cosa in particolare, cioè quella di inquadrare la questione del Covid-19 anche a livello globale, farci capire quanto quello che è accaduto e che sta ancora accadendo, soprattutto le notizie che arrivano in questo momento, dal di là dell'Atlantico, dal Nord e Sud America sono tutt'altro che tranquillizzante, possiamo ascriverlo a un evento che è eccezionale o quanto invece quella cosa che sta accadendo, ciò che sta accadendo ora, sia un chiaro sintomo di una crisi sanitaria che possiamo considerare anche sistemica. Ti lascio la parola. Buonasera a tutte e a tutti. Io parto da due considerazioni. La prima è che quello che è avvenuto è assolutamente in linea con quanto tutti noi abbiamo detto all'inizio di questo millennio e abbiamo sostenuto nel 2001 prima di tutto a Porta Alegre e poi col movimento dei movimenti negli anni successivi. E cioè attenzione, questo per esempio lo diceva Susan George nell'assemblea di apertura il 16 luglio del 2001 a Genova, diceva attenzione perché questo modello di sviluppo se dovesse andare avanti così, ed era il 2001, produrrà una crisi economica e sociale globale quale non è mai avvenuta dal dopoguerra in Porta. E in quella stessa assemblea di apertura Valdenbello diceva attenzione, questo modello di sviluppo è destinato a portare cambiamenti climatici e cambiamenti a livello della convivenza globale pesantissimi. Sono passati quasi vent'anni e noi stiamo misurando le conseguenze di quella che è stata una sconfitta del movimento dei movimenti e di un liberismo che è andato avanti senza fregno. Cioè questo non solo per dire noi avevamo ragione, ma perché c'è un ragionamento dietro, c'è un percorso, c'è una riflessione. La vicenda della Covid io non lo considero un evento straordinario, non lo considero un evento straordinario perché prima abbiamo avuto altre epidemie che hanno toccato poco l'Occidente, ma che hanno attraversato e devastato altri paesi nel sud del mondo e perché alla fine il Covid è stato qualcosa che ha mostrato, una volta avremmo detto, che il re è nudo. Cioè il fallimento di questi nostri servizi sanitari, tutti centrati sulla cura e che hanno trasformato l'essere umano in oggetto di profitto, il corpo degli esseri umani in oggetto di profitto. Provo a dare qualche dato partendo ovviamente da dati italiani. La Corte dei Conti, per parlare di sanità, ha detto che la spesa diretta delle famiglie tra il 2012 e il 2018 è cresciuta del 14,1%. C'è la spesa diretta sostenuta da noi, contro il 4,1% che è la crescita della spesa della pubblica amministrazione. Non solo, sempre dal 2012 al 2018 noi abbiamo avuto un taglio in Italia del 4% del personale sanitario, 3,8% di taglio dei medici di medicina generale, che però poi in alcune regioni, ad esempio come la Lombardia sfiora un taglio del 6%. Questi pochissimi dati che cosa ci dicono? Ci dicono che se andati a un taglio del servizio sanitario pubblico enorme, i posti letto nel 1981, tre anni dopo la riforma sanitaria del 1978 erano 530 mila, oggi sono meno di 230 mila. Quindi c'è stato un taglio nei posti letto, un taglio nelle strutture ospedaliere pubbliche, un taglio pesantissimo nel personale. Ma questo taglio è la punta della piramide che nasconde quella che è stata l'evoluzione del servizio sanitario e siccome dopo di me c'è Emanuela a cui tocca il difficile compito di rifare il percorso delle leggi a livello di regione Lombardia, io mi posso permettere di fare un altro tipo di ragionamento. E cioè, questi tagli che cosa dimostrano? Un servizio sanitario che, primo, ha lasciato uno spazio enorme al privato, 40% lo sappiamo ormai della spesa corrente della Lombardia, spesa sanitaria corrente della Lombardia. Ma il privato in sanità che cosa significa? Significa che sono aziende come tutte le altre che vogliono trarre profitto da un intervento in sanità e che cosa fa produrre profitto? I malati e la malattia. Più ci sono malati, più ci sono malattie, più il privato che investe in sanità guadagna. Più c'è un'attività di prevenzione, più il privato perde. Quindi il privato non solo non è interessato a un'attività di prevenzione, ma vede nell'attività di prevenzione un avversario. Il servizio sanitario pubblico dovrebbe ragionare esattamente nel contrario. Questo vale in tutto il mondo. L'attività di prevenzione riduce la malattia, porta quindi a un risparmio economico, cioè a un guadagno e quindi alla necessità di spendere di meno, perché ogni euro investito in prevenzione porta a casa 3 euro risparmiati nella cura. Allora questo è il primo punto. Il secondo, siamo andati verso un servizio sanitario e mi verrebbe più da dire un'idea di sanità centrato strettamente sulla cura del singolo individuo e unicamente sull'intervento di tipo riparativo. Marco citava il prendersi cura. Il prendersi cura è esterno al funzionamento dei servizi sanitari liberisti. C'è l'intervento di cura mirato sulla singola persona. Con un equivoco enorme, perché quando si parla della medicina personalizzata, dicono che bello, bellissimo, c'è l'intervento, ognuno avrà il medico, la struttura che si occuperà specificatamente del suo particolare. Assolutamente. Il concetto di medicina personalizzata significa continuare a dare investimenti per interventi potenziali sul genoma per poter arrivare a determinare alcune caratteristiche addirittura nel futuro degli esseri viventi, ma sono interventi che per i costi che richiedono possono essere limitati a un numero piccolo di persone e a persone che possono pagare. E l'esasperazione della cura riparativa porta al fatto che oggi vanno sul mercato dei farmaci contro le patologie oncologiche che costano 100.000 euro a ciclo e portano a un aumento dell'attesa di vita, se va bene, di un mese, un mese e mezzo. E sono tutti interventi strettamente individualizzati. E' ovvio a tutti che per i costi che hanno questi interventi e per la complessità di gestione che hanno, non potranno mai essere interventi generalizzati su insieme della popolazione. In tutto il mondo, no di sicuro, ma neanche in occidente. Allora, la vicenda del Covid, a mio parere, rimette in discussione l'idea, il paradigma fondante stesso del concetto di sanità e del concetto di salute e quindi di cura. Questo è un punto fondamentale. Io credo che ci debba essere proprio una svolta a 180 gradi. Dobbiamo mettere al primo posto la salute pubblica e collettiva. Queste non sono parole, hanno dei significati molto concreti, che significa però proprio un'inversione anche nelle categorie valoriali della medicina. Faccio un esempio. Oggi chiunque di voi mi ascolta conosce almeno il nome di un grande chirurgo, conosce almeno un nome di un grande clinico. Secondo me, sia o no la metà conosce il nome di un importante epidemiologo, sia o no la metà, credo che nessuno conosca il nome di qualche medico impegnato nella medicina preventiva, che vengono considerati medici di serie Z e anche i finanziamenti sono ridotti al lumicino. Allora che cosa significa una rivoluzione completa della sanità? Significa, primo, stabilire che l'obiettivo prioritario, adesso la sintetizzo, non è il curare ma è l'evitare che le persone si possano ammalare. Questo è il primo concetto. e quindi significa organizzare tutto l'intervento della medicina territoriale finalizzata a sviluppare comportamenti sani nella popolazione. E quindi qui andiamo dalla questione dello sport, alla questione dell'alimentazione, degli stili di vita e via dicendo. Quindi campagne informative preventive. Secondo, significa avere nella società una serie di sistemi di allarme che ci avvisano quando arriva un nuovo agente infettivo rischioso per l'insieme della popolazione e che quello che non c'è stato è che quindi fa scattare l'allarme, gli interventi delle istituzioni preposte e via dicendo. Significa pensare, se dobbiamo avere una logica premiale, a ribaltarla totalmente. Al centro c'è il personale sanitario che lavora e non solo sanitario perché le persone non si infettino, non si ammalano. Andiamo avanti in questa rivoluzione culturale. Vuol dire, e qui torniamo a Nemesis Medica di Ivan Illich, vuol dire che andiamo verso un concetto di salute che non è più delegata solo e unicamente agli specialisti. Il tuo benessere, il nostro benessere, dipende prima di tutto da te, come tutte le relazioni col tuo corpo, con la tua psiche e poi a come interviene lo specialista, come interviene il tecnico. E quindi c'è una fortissima restituzione della responsabilità individuale. Andiamo avanti ancora. Siccome il futuro della medicina dovrà essere quello di contrastare delle epidemie, c'è un altro aspetto importantissimo e cioè la dialettica, la relazione tra comportamenti individuali, comportamenti collettivi, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina per fare degli esempi semplici, ma che viviamo tutti i giorni, stanno dentro la logica io proteggo me mentre proteggo te e tu proteggi te mentre proteggi me. Quindi non solo un'assunzione della responsabilità della propria salute, ma un'assunzione della responsabilità della salute degli altri e di tutti. E ancora, queste epidemie che tipo di origine hanno, qui Marco l'ha già detto, hanno un'origine strettissima con questo modello di sviluppo, con i cambiamenti climatici, col disboscamento, la deforestazione, con gli allevamenti ad alta intensità, gli animali imbottiti di antibiotici, con la riduzione della distanza rispetto degli animali, rispetto di alcuni animali che non erano abituati a vivere vicino agli esseri umani, che permette poi a certi virus di fare il salto di specie. Allora, tutto questo sistema favorisce lo sviluppo di questa epidemia e questo è l'avversario futuro. E se dovremo andare a misurare l'attesa di vita, l'attesa di vita in futuro aumenterà non se avremo il farmaco che farà guadagnare a chi ha 90 anni un mese in più o a chi ha 80 anni un mese in più, ma se riusciremo a diminuire la distanza di sopravvivenza tra i diversi ceti sociali. Una ricerca che è stata pubblicata sull'Anset e fatta nel 2010 dai medici inglesi all'interno di una città scozzese ha dimostrato che la distanza dell'attesa di vita tra chi viveva in quel momento in collina, nei quartieri benestanti e nel centro della città, che invece erano gli ex carteri operai andati ovviamente in disgrazia, la distanza di attesa di vita era di 28 anni. Allora, noi aumenteremo l'attesa di vita globale se ridurremo questa distanza. Ci sono ricerche di fondazioni a Torino, dell'Istituto Mario Negri a Milano che non danno dei dati così clamorosi, ma che ti dicono che anche nelle nostre città c'è una differenza di diversi anni tra la popolazione che vive in determinati quartieri e la popolazione che vive in altri quartieri. Allora, questo però ci porta anche a fare i conti con una certa cultura, mi verrebbe da dire scientista, che affonda le radici nell'Ottocento e anche prima. Cioè che va a misurare il progresso scientifico sempre e solo attraverso un determinato tipo di nuove scoperte, il nuovo farmaco. Oggi forse in medicina la priorità è un'altra. Utilizziamo le conoscenze che abbiamo che in gran parte non sono utilizzate per ottenere gli obiettivi che ho illustrato fino adesso. Un esempio per tutti. L'epidemiologia è una delle sorelle povere della medicina, ma in una situazione di questo tipo è assolutamente fondamentale. Questo tipo di ragionamenti modifica totalmente anche la logica del personale sanitario. Non abbiamo più tanto bisogno di medici iper specializzati. Abbiamo bisogno di una medicina che abbia una visione, mi verrebbe da dire, universalmente olistica, cioè dove il prendersi cura della persona, il prendersi cura dell'ambiente siano cose che vanno insieme, ma che va insieme anche una visione olistica sulla persona. Soma e psiche sono integrati e non invece una visione dove abbiamo il medico della terza falange, del secondo dito della mano destra che cura quello e non vede quali conseguenze ricadono poi su un altro organo, del nostro organismo perché non è la sua specialità. Vuol dire riformare completamente tutto il percorso universitario e questo non riguarda l'Italia. Questo è un discorso assolutamente globale. Vuol dire che non puoi avere un corso di medicina che non metta prima di tutto il discorso della prevenzione, la questione ambientale, la questione ecologica, la questione dei diritti collettivi e un intervento di questo tipo, che è anche un intervento con nessuna persona, ma dentro una visione di socialità e collettiva, significa anche investimenti completamente diversi. E per come è fatto il mondo oggi, dentro questo tipo di medicina, lo spazio per l'intervento privato non c'è o è assolutamente minimo. E allora che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare a un servizio sanitario universalistico finanziato dalla Fiscalità Generale in modo progressivo e quando nacque nel 1978 c'erano una decina di scalini che andavano a intervenire sulla Fiscalità Generale, decina di scalini di contribuenti, non come adesso che vogliono appiattire assolutamente tutte, che quindi poi diventa gratuito nel momento in cui quel servizio sanitario lo utilizzo perché ognuno l'ha pagato a seconda dei propri guadagni attraverso la Fiscalità Generale. E dentro questo servizio sanitario che deve essere ovviamente molto più finanziato ci vuole una distribuzione totalmente diversa tra il finanziamento che va alla medicina preventiva, alla medicina territoriale e il resto. E concludo dicendo che questo comporta anche una diversa dislocazione delle figure professionali che stanno dentro un servizio sanitario. Certo il ruolo del medico rimane e via dicendo, ma tutta un'altra serie di figure che oggi sono viste solo in posizione subalterna al medico devono aver riconosciuta un'altra dignità perché il futuro sarà un lavoro d'equip, ma non solo un lavoro d'equip tra il medico, l'assistente sociale, l'infermiere e via dicendo, ma tra il medico, l'epidemiologo, colui che studia i cambiamenti climatici, l'esperto di eventi ambientali, cioè un'altra visione. E questa è l'unica strategia possibile per andare a diminuire anche le distanze sociali che ci sono in Italia e in tutto il mondo. Se non capiamo questo, ogni epidemia che verrà sarà una tragedia per una gran massa di gente e le epidemie ci hanno anche dimostrato come l'idea che qualcuno si chiude in un castello e chiude i plebei fuori dalla fortezza è qualcosa che non esiste. Ne parleremo magari dopo con le domande. Io penso che lo spazio sociale oggi per una battaglia in questa direzione esiste. A maggior ragione, e do atta d'attacca di aver lanciato un'iniziativa molto interessante, non può essere un'iniziativa centrata solo su un settore, solo quelli che si occupano di sanità, è una visione globale e alternativa assolutamente del modello di sviluppo del pianeta e del futuro. Ma io credo che oggi sia proprio l'unica alternativa possibile. È proprio la visione stessa della scienza che va rimessa in discussione proprio delle sue basi concettuali.